Buonasera, anzi buonanotte a tutti ragazzi, o forse dovrei dire come al solito buongiorno perché non so se mi guardate a notte fonda come adesso oppure domani mattina e benvenuti all'edizione notturna di ResinTime, il TG dei motori. Ho fatto un po' più tardino rispetto a ieri, rispetto all'orario canonico di ResinTime, ma la colpa dovete sapere è di un attore e comico siciliano che si chiama Roberto Lipari che per me è un mito, ebbene ho visto il suo ultimo film, è una roba pazzesca e lo devo ringraziare, voi direte ma che c'entra? Vi spiego subito. A parte che il film è bellissimo, se volete aspettate la fine di questo video perché voglio farvi vedere la locandina, ma mi ha dato un'idea, mi ha dato l'idea di come impostare quel famoso video che dovevo fare per i 20.000 iscritti al canale che vi avevo promesso e che non sono ancora riuscito a fare, perché? Perché mi mancava oltre al tempo anche la trama, ebbene vedendo il suo film mi è venuta tutta in mente e quindi grazie a Roberto Lipari. Comunque, detto questo, prima di iniziare la puntata che è veramente una di quelle puntate belle toste, quindi mettetevi belli comodi, volevo mandare un saluto a Paola e Antonio Iacovelli che ci seguono da Brattislava, un saluto e un abbraccio fatto con tutto il cuore. Poi, volevo chiedere pazienza a coloro i quali mi hanno scritto dei messaggi sui social o inviato delle email. Pensavo che dopo la finalissima della selezione nazionale piloti sarei stato un po' più libero, ma quando mai? Non se ne parla completamente, di fatti mi trovo a notte fonda a registrare l'ennesimo video del Tg dei motori. E quindi, ragazzi, spero domani di riuscire a rispondere alle prime email. Abbiate pazienza e perdonatemi. Potrei fare come fanno tutti, ovvero incaricare qualcuno a rispondere, però non è la stessa cosa. Non sarei io a dare quelle risposte, quindi preferisco farvi aspettare, ma poi darvi io le risposte. Infine, quell'anedoto di cui vi parlavo oggi, non ve lo racconterò stasera perché la puntata è bella lunga, lo faremo possibilmente domani. È una cosa molto molto carina. Bene, iniziamo subito la puntata nella giornata dell'esito del Budget Cup che è anche passata un po' in sordina come notizia perché oramai tutti si aspettavano un esito come quello venuto fuori oggi. Comunque, se volete approfondire l'argomento, ne tratto nella puntata è parecchio 653. Quindi quella prima di questa andatevela a vedere. Perché? Perché c'è tanto di cui discutere adesso. Ovvero, ad esempio, i risultati del test fatto da Carlos Sainz, che purtroppo ha terminato il test così insambiando la vettura, i risultati delle prove degli nuovi pneumatici intermedi che non hanno termocoperte. Ragazzi, anche se la pista non era molto molto bagnata, anzi, in alcuni momenti lo è stata e in alcuni tratti lo era, però come potete vedere c'è stata una giornata di sole incredibile che asciugava rapidamente tutto. Ebbene, i risultati sono positivi. La Pirelli potrebbe essere utilizzata già domani senza termocoperte. Questa intermedia. E poi si comporta bene anche con più acqua di quella a cui l'intermedia ci ha abituati. Quanti giri ha fatto Carlos Sainz? Io vi dico una cosa, c'è tanto bisogno di test e di fatti Sainz, ma anche Ocon, ma anche Perez, che hanno girato questi ultimi due a Monza, hanno girato veramente, veramente tanto. Sainz addirittura ha fatto più di 150 giri, fermando i cronometri in un ottimo 59,4, che è un buon tempo se consideriamo tutto il contesto. Poi Ocon ha girato a Monza assieme a Perez in 1,25 usando una mescola un po' più dura rispetto a quella del messicano e Perez ha fatto 1,23 e rotti. Comunque tanti, tanti giri anche per loro. È l'ennesimo messaggio. Ci vogliono i test, ci vuole la reintroduzione dei test, perché è inutile parlarne, le prove, quelle vere, si devono fare in pista e poi l'ipertimedia, tu vuoi spettacolo. Ma allora dai la possibilità a chi è dietro, agli inseguitori, di provare, di poter recuperare. Sarebbe un BOP lecito, così come si fa con le ore in Galleria del Vento, con le ore di CFD, anzi con le corse in Galleria del Vento e con le ore al CFD, sarebbe un BOP lecito, sportivissimo. Tu dai la possibilità a chi è secondo di fare più test, a chi è terzo ancora di più, a chi è quarto ancora di più, in modo che questi possano recuperare provando in pista. Niente, l'ho buttata lì. E poi un'altra cosa importante sarebbe quella di evitare di bruciare giovani talenti, perché avrebbero modo di fare tanti, tanti, tanti chilometri. Magari si potrebbe, la federazione potrebbe imporre appunto l'utilizzo, non sempre dei titolari, ma metà e metà. Un metà guidano i titolari, un'altra metà i collaudatori, i giovani piloti, le riserve, tutti quelli designati a questo ruolo. Andiamo avanti, perché praticamente oggi ha provato Sainz, domani ci sarà Leclerc. Leclerc è arrivato quando Sainz ancora era a Fiorano, e di fatti Sainz poi è partito un po' dopo. Tra l'altro guardate chi è con entrambi i piloti. Questo pilotino, non so se ve lo state ricordando, ve l'ho fatto vedere oggi, è questo qui indicato con la manina. Facciamo un ingrandimento. Eccolo qui, cioè praticamente ieri era con noi, oggi è a Maranello, anche lui, ed è qui che praticamente si gode i due ferraristi. Comunque i due ferraristi hanno avuto modo di incontrarsi. E sono proprio curioso di sapere che cosa si sono detti in merito a questa guerra social che c'è in atto. Comunque, secondo me, degli attriti piano piano vengono fuori. C'è poco da fare, sarà così. E andando un po' con la mente a ritroso, vero è, si sono rispettati, ma se le sono date di santa ragione durante l'ultimo Gran Premio, e hanno anche rischiato tantissimo, entrambi. Quindi la lotta tra di loro inizia, come dire, a farsi sentire che questa cosa qui potrebbe essere una cosa positiva per certi versi, finché la Ferrari insegue, ma poi stiamo calmi. Andiamo avanti, ma che cos'ho? Oh, sapete cos'ho? Un sassolino nella scarpa. Che dite, me lo tolgo? Ma, io direi di sì. Eccolo qui. Togliamoci questo sassolino dalla scarpa. Quiz dell'anno. Quale tuta vi ricorda? L'ha indovinate? Guardate lì, la manina indica la M di McDonald's. Ragazzi, mi dovevo, come dire, togliere questa soddisfazione? Scrivetemi sotto nei commenti, secondo voi, chi è che indossa questa tuta nel paddock. Secondo me, a questo punto, Lando Norris ha problemi nel distinguere i colori. Dovrebbe fare una bella visita. Passiamo per un attimo alle due ruote per poi tornare alle quattro. Perché? Allora, a sinistra vediamo Pecco Bagnaia che, come vi ho detto ieri, i medici dicono ci vogliono dalle due alle quattro settimane per recuperare dall'infortunio. Però lui farà di tutto e lo ha anche dichiarato per esserci già questa domenica a Misano. Io sono sicuro che proverà, come al solito, una 600, una moto, farà qualche giro e sono convinto che farà di tutto, ma veramente di tutto per esserci. Certo, gli Inducati dovranno risolvere il problema che ha avuto perché quel disarcionamento dalla moto, ragazzi, è strano anche perché i dati della telemetria dimostrano che lui non ha fatto nulla di inusuale. Qui l'elettronica c'entra tantissimo perché una volta era tutto, come dire, lasciato alla sensibilità del pilota che apriva e se apriva in maniera troppo brusca veniva disarcionato. Adesso i piloti aprono la manetta relativamente parlando, ma c'è l'elettronica che bypassa tanto di questo movimento brusco che può avere il pilota. Quindi, raga, Ducati deve assolutamente indagare perché una caduta come quella di Bagnaia può essere molto, ma molto, ma molto più pericolosa di quella che c'è. O meglio, quella è stata pericolosa, è stato lui che ha avuto molta fortuna. E l'altro pilota chi è? Si chiama Nicolò, complimenti per il nome, Bulega e sarà il prossimo anno pilota ufficiale della Ducati in Superbike a fianco di Alvaro Bautista, il campione del mondo in carica e anche futuro. E poi a proposito di moto, perché guardiamo la Ducati del Team Gresini e la Honda pilotata da Marquez? Perché ragazzi, dopo Misano ci sarà un test molto importante per la Honda che, secondo me, potrà fare scattare un click se già non è scattato nella testa di Mark Marquez, che potrebbe lasciare la Honda se non arriveranno immediate le risposte che lui aspetta al livello di comportamento della moto per andare a guidare la Ducati del Team Gresini. Questa è la novità dell'ultima ora. Poi torniamo alle quattro ruote, guardate quanta poesia c'è in questa foto. Ci troviamo al Fuji, sembra l'Etna, lo so, ma non c'è una pista da queste parti, con un autodromo così. Questo è il Fuji e il Fuji sarà teatro della prossima gara del WEC questa domenica, dove la Ferrari e la Toyota si contenderanno il titolo. Titolo che a mio avviso ha già vinto la Ferrari, con la grande conquista alla 24 ore di Le Mans. Poi, questa fine settimana è davvero ricco di motori, ricco di motosport, perché? Vero che non c'è l'appuntamento più importante che c'è stato la scorsa settimana, ovvero, vi tero voi. Ragazzi, è logico, la finalissima dell'SNP, della selezione nazionale piloti. Vero che non c'è il secondo appuntamento più importante, ovvero il Gran Premio di Formula 1, però ci sta il Fuji, ci sta la MotoGP, ci sta il Rally d'Acropoli, che si corre ovviamente in Grecia e che vedrà questa rinata lotta ai vertici del Mondiale Piloti. Anche se, secondo me, ragazzi, il campione in carica Rovampera, vedrete, avrà, come dire, la possibilità di difendere ebbene il titolo conquistato l'anno scorso. E ora un appello molto particolare. Chi si ricorda di questo pilota, di questo rallista? Lui mi ha fatto sognare, era uno dei miei preferiti. Guidava le Ford principalmente, la mitica Sierra, la mitica Escort Cosworth. Stiamo parlando, ragazzi, di Franco Cunico, uno dei più grandi piloti, voi direte a livello italiano, no, a livello mondiale, perché meritava molto di più nel mondiale e purtroppo il male che affligge il motosport, ovvero il budget, non gli ha consentito di essere un altro Biasion, di essere un altro Juha Cancunen. Sto migliorando nella pronuncia. Sto migliorando. Complimenti, grazie. E di poter vincere tante gare ridate e, perché no, anche il Mondiale Rally. Ebbene, lui è consapevole di queste cose qua e mi è piaciuta tantissimo, ma veramente, veramente tantissimo, l'appello che ha fatto in favore di questi due giovani piloti, ovvero Mabellini e Lenzi. Leggiamo un attimino quello che dice, soprattutto nella prima parte. È fuori dubbio che la coppia Mabellini e Lenzi siano i migliori giovani piloti d'Italia. Altri chiacchierano, questi fanno pochi test, i fatti, aggiungo io, e hanno tanta umiltà. Ora, per il 2024, chiedo a tutti, a sponsor, eccetera, eccetera, lui dice soprattutto ad Aci, io chiedo anche agli sponsor, di sostenerli economicamente nei loro progetti. Ma fornendo loro il 100% dei contributi economici, solo così, dopo Biasion, potremmo vedere degli italiani nel panorama mondiale. Bravi. Ecco, io mi sono sentito di accogliere questa preghiera, vogliamo chiamarla così, questa richiesta di Franco Cunico, che se dice questo, io ci credo, perché Franco Cunico di rally ne capisce e se ha intravisto in questi due giovani, ragazzi, il potenziale futuro tricolore nel mondiale del rally, perché no, perché no. Quindi anche io voglio lanciare questo appello. Bene, chiudiamo la puntata con la locandina del film, perché mi è entrato totalmente nel cuore per il messaggio che ha dato, perché ripeto, Roberto Lipari mi piace tanto qui con il mitico Leo Gullotta, perché ha la capacità di farti sorridere, ma di farti riflettere allo stesso tempo. E allora consiglio a tutti la visione di questo film e non prendo percentuale. Bene, ragazzi, da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale dei Piloti è tutto anche per questa puntata, io vi rimando a quelle di domani. Vi invito a lasciare un like, un commento, condividere il video sui vostri social, attivare la campanellina se non l'avete fatto e soprattutto iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto. Infine, la solita preghiera, vi prego di darmi una mano con il canale che ho aperto per i bambini, ovvero quello di Yellowskid che sta crescendo piano piano, ma molto molto lentamente. Lo sapete, ci ritengo proprio tanto, tanto, tanto a questo progetto dove cercherò di dare, come dire, dei messaggi importanti a coloro che saranno il futuro di domani. Un bacio a tutti, a Paola, ad Antonio, a tutti quanti e niente, ci vediamo domani. Ciao!